Ciao a tutti, io sono Pierpaolo Casini di System Costruzioni, all'interno della quale mi occupo di progettazioni di edifici in legno. Oggi sono qui e sono contento di esserci in questo bel ambiente. Ero già stato ospite un paio di anni fa e devo dire che torno sempre molto facilmente a partecipare a queste iniziative qua. Tra l'altro l'ambiente è accogliente, è bello, è una bella struttura in legno che abbiamo realizzato noi. Questo mi fa piacere, mi fa orgoglio dirlo. Oggi ero qua per parlare della riqualificazione del Tecnopolo 19 all'interno del complesso delle ex officine regiane. Un progetto importante, un progetto di riqualificazione che è l'inizio di un percorso più lungo. Ci ha dato delle belle soddisfazioni, detta anche dagli addetti ai lavori, detta dagli architetti. È un risultato che si vede venuto fuori da un lavoro di squadra, da un lavoro in cui progettisti e impresa sono riusciti a collaborare e ad arrivare alla resa voluta. Quindi grazie della possibilità. Grazie. 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 Grazie.